Prova di registrazione full HD da Honor 7X, qui sto già facendo un cambio di luce, movimento veloce, zoom digitale sul condizionatore davanti a noi, torno indietro, cambio di messa a fuoco, registrazione video full HD Honor 7X. Spiaggia di sabbia nera incredibile, zoom digitale, laggiù in fondo c'è anche una cascata. C'era una tartaruga così.